La luna e i patati con un frussellino, con la piazza e con la sbocca? Certo, certo! Oh, ma questo è da tece! Adanascia, Procopio piccolino, eh! Speriamo di no che gli facciamo! Oppa la magliella! Signor! Signor! Signor, li metti al porto! Li metti al porto! Perché tu sei una commedia nella commedia! Signor, vedi eccoci, vengo a prendere la mano! Signor! Grazie, signor! Di dove? Di dove, signor! Eppure nonostante frattoli la fratta niente! Spero nonostante frattoli la fratta niente! Eppure nonostante frattoli la fratta niente! di frattoli a...facete un applauso all'Ucetelania! Eh fio 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 c'è becetto si gonde ci mette pure in due sette sette mani non si è mai che una cosa di questa non le chiama per nome tu chiamalo bella anima di Dio ma mi vedete? vanno ti faccio conoscere le gemelle tese se no...ma ti ha...segnate che c'è l'acqua di stettiaio ferite che... ferite se questa è bella romana ferite se no mo carvi a Roma e... a condire che c'è un bene menù ma si ha telefonato mia figlia o tu chiudeste l'anforo perchè si no... e c'è che farli affanti figli dove sta la figlia vostra? a Roma eeeh oh che crepa che è la capatana tu glieli sei ditte adesso siamo fresco fresco eeeh 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 ma però ha partorito qua ah signori cagate tenete ah questa è la mamma vostra ma c'è sta la famiglia completa io voglio essere trovato il padre da tu appiegato sul cinema siamo tutte sorelle tutte sorelle fredda la mamma vostra fatigliata e buona otto hai sentito chiarina? tu ci hai messo una vetta per farci un pupazzetta gli altri sono gli 80 volte gli altri la televisione fa qualcosa di più che male questi sono tutti frutti di zero televisione quello fratello allora facciamo l'appel apoi è ci è il numero uno quel che si fa prende non toccare mio nipote ma no ma ci è sembra tu calibardi ci diceva che è malattia che è il numero due lui e già la signora ha vissuto ma è che femmine ti apposneva tu ti avete aggiunto è arrivato il numero tre presente quando siete belli il numero quattro dove è il il numero quattro no no ti ha calzato no ma qui c'è un artista ma questo è un mito di hollywood io sono troppo buona sono buona non buona sono buona sono buona sono buona sono buona sono buona sono buona e questa signora vestita di roscio la tua combagna ah non sei manco sposato legale ma che va bene non sa usse chi osse procopio gli te lasse procopio ho detto signora quando sei delus signora che è un artista che fa che fa fillini signora signora posso venire signora signora no perché voi io mi parlo il dialetto ma so parlare molto bene bene ma non è che cazzo voi adesso mi arpiate facete vedere un regista può essere che la vecchiaia diventa famosa ma che bella gente io voglio la fotografia in tv voi dovete vecchiaia ma che c'è una speranza per me sia mai che speranza non c'è la speranza per me che fate alla televisione che faccia cose più in alto tu che speranza vuoi avere con una bella femmina cuce già sei stato miracolato non ti vuole non ti vuole ora non è che non fa se è più grande vi aspetto per la foto sei meraviglioso tu sei il numero 4 oddio l'ubbaciamano ieri sono simbri di telecafune armani capune quella gente della città irraffinata però copio l'italas è arrivata a quattro dove sta in un cingua e in un sei ma questo è peggio ma che ci vuole fare che lo pullaia o dica e mi venga a bettu a stanza inza procopi ma che io una cosa di questo mi le perdono perché è proprio mo come io io sono puzzato per una vita intera perché dicerci l'uomo ne si fa tutti quindi li fregna però chi tira la carretta se mi sembra una femmina io me la piglio con Adamo ed Eva è il grande capo perché io ancora so capito se è stato Adamo che si è fregato la mela e si è angluttito ma di che di sofferenza Eva ma se Adamo è stato in un dottito buccalone che è la colpa di Eva è il grande è il grande è il grande è il grande Adamo nei secoli eterni guarda a me mi ha toccato una cosa del genere lo so ma la storia mi senti perché Adamo è pagato la ferma e l'uomo è nascita che è buono solo lavorerai con sudore perché non il sudore non ci riesce va a fare le parturie a nome ne vede che gli arconi è l'ossa dappù la storia gli dice l'imam ci è la mamma in dalla madonna e tu vanno a sofferti la madonna l'angelo ha sto la madonna ha rinunciato a tutte le cose e alla fine lo dolore sarà rimagnato perché le mamme le mamme fatte sogni di soffrire con G quando ti dico per tu sti da sola io penso davvero scendigli quando mi giro in dormi sti in baniera ma alla fine chi lo di loro sarà rimane da sola prima vai a stend perché sono riduto tanto ma sacchini ci dico dentro ancora andatemi rispiegno la luce con ciao buono e e andatemi oh è vero questi l'armene frate eh e non ci arminete grazie allora rena che la luce tiene un problema tu che la luce che la luce With CC Mixer, it's your boy Jeff Williams Word What's up young world, it's Jeff Williams You're listening to CC Mixer Composure on the inside, ulcer on the outside Footsteps up to me